Salve a tutti, oggi video eccezionale, grazie al presidente della Sigma, Yamaki-san, visiteremo la fabbrica. Piccola premessa qui in casa. Per chi non conoscesse Sigma, Sigma è uno dei principali produttori a livello mondiale di lenti per macchine fotografiche, di fotocamere, flash e altri accessori per la fotografia. Probabilmente la fotografia non è tra i vostri obiettivi principali, ma vi consiglio di vedere lo stesso questo video perché avrete la possibilità di vedere il processo produttivo per la realizzazione delle lenti e anche altri aspetti della fabbrica, come per esempio la mensa. Voglio ringraziare ancora una volta Casuto Yamaki-san, cioè il presidente di Sigma, per avermi dato la possibilità di visitare questa splendida fabbrica. Vi consiglio di vedere questo video anche perché Yamaki-san spiega perfettamente qual è l'approccio al business di Sigma. Sigma infatti è un'azienda che ha un solo processo produttivo in Giappone, quindi tutti i prodotti realizzati da Sigma sono made in Japan. Qualora abbia bisogno di parti che non realizza direttamente, si serve di fornitori anch'essi giapponesi, tutti locali, principalmente nel nord del Giappone, in quanto la fabbrica è situata appunto nel nord del Giappone. Grazie ancora una volta a Yamaki-san e mi raccomando guardate questo video per scoprire la storia e il business di questa grande azienda giapponese. Questa è una foto della nostra fabbrica, e questa è una piccola molto vecchia, ma abbiamo costruito una nuova fabbrica qui prepara i magnezziumi. Magnezziumi sono molto rischi di fabbrica, quindi abbiamo costruito la fabbrica all'interno della nostra locazione, in caso di fuori o l'exposione. Dopo la mia presentazione, prendiamo l'auto, andiamo a fuori e iniziamo la nostra tour da questa parte a questa parte. Ora andiamo a fare il tour della fabbrica, abbiamo questo qua, che serve perché ci spiegheranno quello che vedremo. Siccome è un'area produttiva in cui ci sono anche delle polveri così, ci hanno dato sia il cappellino che il camice. Abbiamo usato questo tipo di fabbrica, probabilmente, al minimo di 5, al massimo di 10, le fabbrica in un livello. Grazie a tutti. È tutto bellissimo, però a me la cosa che mi stupisce per questo posto è la pulizia. Cioè, io ne ho anche in casa mia, così piccoli. Qui siamo nella mensa della Sigma, dell'azienda. Grazie a tutti. Ora vediamo il fatto che un po' di udon e una soba. Qui siostrano 10 e 10, quindi, anche qualche piccola. Questo piccolo udon, non mi piace, e anche il natto. C'è anche il natto. Pane, dolci, caffè e tutto quanto. Allora, questo è quello che mangio oggi, che è l'hamburger con l'uovo, il curry e questi qua. Daniele che non si fa riprendere, mangia il salmone fritto invece. Adesso è l'ora di tornare a lavorare, quindi vedete che stanno pulendo, a parte le persone laggiù. Questa è la mensa di Sigma. Questa è la sala di sviluppo delle lenti di Sigma. Sto riprendendo altro perché almeno non si vedono bene gli schermi. Facevano notare la pulizia del pavimento. Questa è una fabbrica, tutto molto pulito. La firma è stata fondata da mio padre. Questo è mio padre, Michiho Emaki. E' stato passato nel 2012, 6 anni fa. E poi ho avuto il suo negozio e diventato il CEO. Questa è una foto della nostra fondazione. Questa è il mio padre. Questa è la mia madre. Questa è iniziata in Tokyo, una città di Settaraya. Questa è stata iniziata a creare una firma quando aveva 27 anni. Questa è iniziata a creare una firma, lavorava per una piccola firma. La firma è stata iniziata a creare una firma di Settaraya di Settaraya di Settaraya di Settaraya. Questa è iniziata a creare una firma di Settaraya di Settaraya di Settaraya. che designano e creano l'immagicensore per noi. Abbiamo venduto quasi 80% del prodotto in altri paesi. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!